Vedere la mia gloria, la vedranno, la vedranno certo, la mia gloria. È giunta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo ed ora l'anima mi è turbata. E che devo dire Padre, salvami, salvami da quest'ora, dall'ora della gloria. Quando è proprio per quest'ora che mi hai mandato qui nel mondo.